Il tennis e poi il paddle, sono stati questi i tuoi sport dopo il calcio? Ma diciamo che più si va avanti con l'età le palline rimpiccioliscono prima c'è il tennis, poi c'è il paddle, poi ci sarà il golf e poi mi domanderò come mai queste palline rimpiccioliscono sempre di più però l'importante è farlo con passione, con divertimento e soprattutto impegnare sempre il tempo anche a dedicarsi a un sano sport che male non fa mai Poi c'è tanta competitività tra voi no? Poi c'è tanta competizione ma sana come c'era quando si giocava a pallone e l'abbiamo ritrasmessa nel paddle che veramente crea dei mostri però dei mostri che si divertono e poi tutto quello che è sport è sano quindi va bene Guardando il campionato del Napoli vincitore dello Scudetto che effetto ti ha fatto ritrovarlo dopo tanti anni alla conquista del Tricolore? A me non mi ha sorpreso perché Spalletti l'ho avuto come allenatore comunque sono le capacità che ha Luciano, non solo tecniche ma anche umane per cui ero convintissimo che riuscisse a far bene così è stato, io l'ho detto in tempi non sospetti anche mettiamo su un'organizzazione di gioco che ci voleva un po' di tempo perché comunque il Napoli ha cambiato tantissimo ha cambiato un difensore centrale, un centrocampista, gli attaccanti e quindi quando questo è avvenuto tanti erano scettici perché ci voleva un po' di tempo forse per poter invece ha vinto pronti via questo campionato che è meritato e sono contento per Luciano Gli consiglieresti di restare dopo un traguardo straordinario come questo perché poi quando arrivi a Napoli e vinci lo Scudetto oltre c'è la Champions, di più non si può fare Credo che ripetersi è sempre difficile a ogni livello quindi arrivare a ottenere uno Scudetto a Napoli in una piazza calda, una piazza comunque esigente come questa e avere a che fare con un presidente come De Laurentiis è dura, è dura però io credo che Luciano meriti di poter tutti gli anni poter competere per lo Scudetto quindi io mi auguro che faccia le scelte migliori per lui e soprattutto per poter ottenere altri risultati come quest'anno La ex viola invece come giudichi ad oggi la stagione della Fiorentina? Ad oggi è una stagione più che sufficiente ovviamente ci sono stati dei momenti in cui non si è espressa al meglio forse perché comunque era un gioco tanto spregiudicato perché faceva pochi pareggi o vinceva o perdeva o prendeva gol, tanti gol o non ne faceva per cui è una stagione che va un attimino riequilibrata rimpostata e soprattutto pianificata con l'allenatore e la società Ecco, cosa servirebbe una punta da 20 gol? Cosa è mancato quest'anno alla Fiorentina? Anche se è ancora in corsa per due trofei Trovarne di punte che vanno in doppia cifra credo sia la cosa più difficile oggigiorno in Italia infatti se guardiamo la nostra nazionale è andata a prendere giocatori che militano all'estero e che non giocano in Italia per cui credo che i giocatori che possano arrivare in doppia cifra sono stranieri e costano tanto credo che la Fiorentina non se lo possa permettere questo però come ha poc'anzi detto lei è ancora in competizione per due traguardi importanti quindi vuol dire che il lavoro e l'operato comunque o perché il livello è basso o perché comunque è stato fatto un lavoro con i giocatori a disposizione buono per cui, ripeto, è un risultato più che sufficiente quest'anno Stefano, quando te giocavi c'era l'imbarazzo della scelta bisognava prendere il numerino per andare in nazionale in tutti i ruoli a parte ora modo anche in attacco adesso facciamo fatica, dicevi giustamente andiamo a prendere Reteghi che non è convocato all'Argentina lo facciamo diventare il centramanti titolare della nazionale ora ti chiedo come mai si è arrivati a questo secondo te? Perché come hai detto te sono cambiate tante cose prima ai miei tempi per arrivare in nazionale dovevi fare almeno due o tre anni ad altissimi livelli senza sbagliare partite e avere un rendimento e una media voti altissima ora fai una partita, due partite e ti convocano il nazionale ma questo perché? perché il livello purtroppo non è più come quello degli anni in cui giocavo io ma questo è sotto gli occhi di tutti quindi non sono io il primo a dirlo per cui bisognerebbe lavorare più sui giovani dare fiducia ai giovani vedo che le società fanno fatica a far giocare ai 2003-2005 comunque sì sono nell'organico ma li inseriscono a piccole dosi e io credo che bisogna invece giocare sui giovani bisogna puntare sui giovani e lavorare sui giovani ci vuole anche gli allenatori che sappiano lavorare sui giovani tra poco c'è l'Euroderby e tra l'altro ci sarà una bella sfida anche sugli esteri da una parte c'è Teo Hernandez che secondo me in quel ruolo lì se non è il migliore al mondo è nei primi te e di là però c'è anche un Di Marco, scuola italiana, che sta facendo molto bene un giudizio su entrambi? Teo ci ha fatto vedere cose straordinarie anche Di Marco sta facendo molto bene penso che questo derby sarà determinato proprio dagli esterni se ci sarà Leao sarà una bella partita in mancanza di Leao la vedo un po' più problematica per il Milan però sono due esterni che fanno veramente la differenza sono nei moduli in cui i propri allenatori li stanno impiegando alti fanno veramente la differenza hanno quello strappo che serve per poi vincere le partite Cosa pensi dell'Inter in vista di questo derby di Champions e anche in vista della finale di Coppa Italia con la Fiorentina? L'Inter ci ha abituato a risultati straordinari come a prestazioni meno belle però credo che quelle sono partite che non hanno bisogno di motivazioni quindi presumo che si prepareranno al meglio e sapranno affrontare la competizione come va affrontata ovviamente affrontarla con l'organico al completo e senza infortuni sarebbe la cosa più bella perché comunque per lo spettacolo sarebbe veramente uno spasso poterle ammirare al completo entrambi vedremo, vedremo un po' i recuperi di Leao e degli altri Da grande ex Doriano il tuo pensiero sulla Samp che vive questo momento, questo periodo terribile? Giù le mani dalla Samp Giù le mani dalla Samp è stata un'annata difficile perché priva di società e di qualcuno che potesse dirigere o fare per cui è stata un'annata difficile davvero per i tifosi soprattutto perché poi sono i primi che hanno dato grande dimostrazione di attaccamento e fino all'ultima partita ho visto una curva piena incitare dal primo all'ultimo i propri giocatori quindi ma non è una cosa nuova sono abituato, l'ho visto anche quando c'ero io nei momenti difficili per cui proprio per loro bisognerebbe risistemare un po' tutto la società e cercare di trovare dei compratori che amano questa maglia, questa città Giuntoli ha dato dimostrazione di avere dei talent scout incredibili si diceva e si dice nell'ambiente che abbia i migliori non a caso tutti i giocatori più forti li ha trovati lui, li ha scovati lui per cui ci vuole una grande ricerca ma soprattutto un grande lavoro e credo che lui possa essere l'uomo giusto per rifondare una Juventus che ha bisogno di un direttore e soprattutto di trovare giocatori importanti Stefano, ultima domanda, risposta secca secondo te qual è tra gli emergenti il migliore allenatore italiano o quello che ti piace di più? Vale anche De Zerbis all'estero, se può essere un suggerimento No, a me De Zerbis mi ha fatto meraviglia, diciamo, tra virgolette perché si è andato all'estero poi dopo mi domando se ci vanno anche tanti altri giocatori giovani o meno, a cercare fortuna o comunque avere un po' più di soddisfazioni non mi sorprende più la cosa nel senso che oggigiorno in Italia facciamo veramente fatica a tenere giocatori ed allenatori in grado di poter migliorare e crescere i giovani perché il lavoro di De Zerbis fatto a Sassuolo era straordinario, è stato straordinario per cui mi ha sorpreso il fatto che sia andato all'estero quindi sicuramente De Zerbis è uno di questi e poi ce ne sono tanti che stanno venendo su ora non voglio fare nomi perché non è corretto però ce n'è, qualcuno ce n'è